eccoci adesso aspettiamo che arrivino i nostri amici e tu fai attenzione se arrivano che devo andare a cuocere la pizza chi va là chi va là chi va là chi va là loli o la loli daniel ciao ciao ragazzi ciao maria arnaldo ciao pacchi mili al mio paese quando il sole stasera si comincia a suonare moises vado a cuocere la pizza ragazzi speriamo che non ci sia già la roberta quando è ora della fiesta c'è festa per me invece di cantare io voglio già mangiare la pizza che non c'è e la pizza non arriva un attimo la pizza non arriva non si sa bene dove andare a finire amici alla ma quanti amici che vedo ciao daniel come stai moises soy la moises e poi vedo vito spincia castiglio vito dalla festa la festa della spincia se mi ricordo pacchi ciao pacchi i mili e stava un problema stambi e noi for la la diretta però e mos trabaccato un poco e e ora mi pare se che va a fare bene e amici di spagna non ci siamo ascoltato oggi non so se alguno di voi ha ascoltato la entrevista che ho sentito con con toni toni esto della radio 4g viene e ho salutato mucio salutato mucio samilos matteo marina melillo ciao marina eccola qui bene cari signori qui il tempo passa e diventiamo sempre più bianchi non so se ne ve ne siete accorti ma che devo fare ragazze una vita mega mega chi c'è chi c'è amore controllato non controlli vedi manda giu manda giu manda giu o le toccare più niente dovrebbero andare avanti da sé arrivo a salvatore san dino eccoci siamo sentiti la sera altro giorno e si ci siamo risposti al telefono ero io e poi vedo tanti altri non le dice che dovrebbero andare da soli ma io non vedo che vanno da soli no no non mi paresse vedere un momento qui poi vedo la vale peroncini ciao vale loli lopez roberto mario medicino ciao sandrino come stai come mi vedi qua visi vecchio caro mio pilar crespo ciao pilar giovanni caravella e poi abbiamo la famiglia di angelo peroncini assun dominguez siete insieme angelo sei insieme assun mi raccomando fare cose strane che sai assun allora ragazzi se non mi viene buona la pizza con una ricetta napoletana rosanna un'amica fantastica la robie i capelli grigi si stanno arrivando i capelli bene ammedeo katia ciao bellissima graziella graziella lo sei no graziella ci saluta da fiume fiume more lasciamo perdere no no è perché se ti dico fiume tu non sai dov'è sicuramente amore su vicino grado gorizia quella zona ciao max amico mio come stai bene mi fa piacere max è un caro amico un caro amico che ogni tanto quando siamo in emilia vuole salire sul palco e cantare e lo faccio cantare volentieri perché è un ragazzo molto caro purtroppo ha un problema così suo e se lo porta avanti con grande con grande forza e quindi insomma si può rifiutare una canzone max assolutamente no ciao nicolò ciao nicolò ciao nicolò mi fa piacere vederti rosella migro e c'è scotto massimiliano anche a sun dominghez ciao sun e poi chi vedo toni stefania d'agostino che non manca mai ciao stefania ciao steppi e poi chi vedo giovanni carabella l'abbia detto prima o la maestro l'altra sera ai soliti ignoti sempre simpaticone lo so però guarda come strana la vita l'altra sera che era una registrazione aveva i capelli più scuri ora diventando bianchi bianchi allora rossella ciao ciao rossella pensilvania per la maglia mi ricorda qualcosa daniel sei troppo attento sei troppo attento veri bravo da rossio rossio poi c'è ancora c'è chi c'è ancora adesso andiamo a scovare silvia ciao silvia poi renato celle che sta guardando la trasmissione ecco tanti mi dicono che poi fanno quella sorta di diario cos'è quella condividono il diario cos'è a moda quando fanno il video party ecco tanti mi dicono che fanno il video party perché dice ma tu parti no io non fa qualcuno 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 parte però saputo col video ciao maite ciao la maite come stas attonella priolo non hai idea della pizza che sto facendo poi l'assaggerò e poi graziella antoniali fiume veneto pordenone vedi che dicevo giusto amore allora ricordati quando dicono fiume è in veneto pordenone vicino a pordenone no perché poi ci sbagliamo daniel barberato è pronta e lei adesso cosa succede se ci ricordiamo gli accordi sì e poi abbiamo la lorenza che guarda la trasmissione ma scusate è brutta da vedersi come forma ma ho fatto una pizza eh che meraviglia Robi spero che tu c'è tento che ti brucia eh sì amore no vedi così poi brucia grazie ma guarda che pizza che ti ho fatto beh guarda di ragazzi vai dopo facciamo l'altra adesso facciamo tutto così se è buona apriamo una roba mettiamo fuori pizzeria da catarica non so se c'è la roba fate un po' che provo ad andare giù la patrizia san salone che salutiamo cacimani Pasquale nunnari oronzo oronzo grande oronzo come stai bene barbara portoghese perché vai così veloce perché se no non vanno su da soli non vanno lo stesso si vanno su da soli adesso ma io non ho visto però hai saltato centomila amici però allora ragazzi ho fatto una pizza meravigliosa è brutta perché è la forma non è proprio rotonda però secondo me ma dimmi una cosa è la tua amore una alla volta adesso facciamo metà per uno va bene lori te la preparo amore una pizza che ti ho fatto sto scherzando morbida non è bruciata no no guarda è proprio come dire si piega come mi ha insegnato la mia robina e dissi guardatela qua dietro cioè l'ho fatta io eh non so ma posso mangiarla se l'hai fatta a te oppure la guardo solo puoi mangiarla la guardo solo puoi mangiarla ciao debora buon appetito a tutti amici buon appetito io non so voi cosa mangiate cosa state mangiare si non camminano da soli i commenti stasera vabbè ma li faccio andare io ditecelo 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 la prossima forse la faccio un pelino di più brava perché questa è un po' gommata è vero non è gommata un pochino ma cosa dice stupenda allora non è gommata è stupenda no il telefono ma chi è che ti chiamano quando fai la diretta non lo so mangio smith no vabbè cos'è brava brava ti sei superata mi è mai venuta la pizza così mai così mai a molto mai venuta Roby spero che tu ci sia grazie è molto buona perché veramente è morbida buonissima c'è una roba città andava cotta appena finita no ma no allora no ma non era cotta figure che si andava cotta comunque a capa chiunque giusto per rimanere in tema cioè comunque la prossima lo sapete com'è la prossima ma io vorrei la birra non il vino no veramente ma la metto sul vino vabbè io bevo la birra scusa con la pizza no no daniel non mi tradire daniel mi stai battendo in simpatia roby l'hai vista dimmi che l'hai vista roby si piega roby guarda 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 qua dietro guarda che pizza guarda cioè meravigliosa la piegata è rimasta piegata non è vero guarda roby sei una grande grazie perché mi è venuta bene ho seguito pari passo tutti i tuoi consigli no no è buona è il tutorial è buona veramente appena appena un po nei bordi va bene ma perché adesso l'ho cotta di fretta però all'inguina gli scampi furbacchione adesso mi è scappato se la dieta se fanno anche io dovrei essere la dieta comunque la prossima per dirvi sarà brava roby la prossima sarà pizza i figli ria rielli e salsiccia una cosa leggera poi la mangiamo di sera così poi andiamo a dormire lei è pesante e poi di notte urla che ci dice che la nonna è in mezzo a noi come è successo ieri sera che cercava sua nonna dice dove è la nonna io per farla star brava che urlava ma è qui non ti preoccupare è qui nel letto con noi allora ma scusate ma che avevamo mangiato solo due polpette figura di friareri le cose altro che nonna si sono ma che brava ma non pensavo che mi venisse così brava ti sei superata ma anche la roby che è indicato bene è un po difficile stendere la rotonda un pochino difficilino però ce l'abbiamo fatta ed è molto buona da sempre l'ora di fare l'altra con i friarielli e le salsicce maria cosa preparate sapete che ne do un po a pippo perché vuole vedere cosa dice tipo come è sentito volevi la birra da prendo grazie allora questo va dalla me come tipo allora vediamo un po dario e si dio c'è si dio ciao si dio un bacione ciao si dio come va forza genua però video bisogna anche essere un po va bene anche forza sonoria non lo dirà mai si lo so ti ringrazio ma per cavalleria vorrei ricordarvi che si dio è stato un grande campione degli anni 70 del genoa detto così almeno vi rinfresco un po la memoria grande bomber silvio corradi grande bomber e io mi pregio scusate un rumore strano è scappata la ciabatta ma scappata la ciabatta amore cosa faccia ma non è vero era la ciabatta era la ciabatta ma io guarda ma non ci siamo mica ma non c'è mica niente di strano ma può scappare ma tavola ti sei girata hai fatto lo sforzo di girarti qui sopra va bene comunque se dici che era la ciabatta era la ciabatta ho imparata ho imparata ho imparata ho sentite cioè se la Roberta che è napoletana mi dice che sono stata grandissima ho vinto ma perché era assaggiata no ma era Enzo che mangiava le lingue negli scampi Enzo Enzo ti ho un po' di invidio è carina ti ringrazio anche a te la Roberta anche se non te lo meriti eh vabbè si gli hai fatto i complimenti ho capito ho capito però non è che te lo meriti tanto che mi prendi in giro ma ho detto niente sono stata brava Pippo ha fatto ma quindi va bene Pippo sta bene Loli per fortuna ah e tra l'altro questa pizza qua l'ho fatta con 4 grammi di lievito quindi non ci gonfierà neanche la pancia pensa un po' vuoi il vino? ce l'hai? non so grazie un po' di vino? mh mh tipo sta bene oggi abbiamo tolto i punti alla salute amici amici alla salute di tutti voi salute cin cin alla nostra a quella di Pippo ma soprattutto io farei un brindisi al virus perché sta portando via le palle e se domani dopo domani sentiamo che le sta portando via ancora di più gli facciamo un brindisi ancora più grande un brindisi generosissimo basta che se ne vai ci porta via la pelota pensavo la pelosi la pelosi no perché poverina è brava Zoraida ciao Zora ha detto che si può dire Zora non so basta noi ci Zoro no Zoro ti sbagli tra Zorro e Zora no solo che non mi ricordo se si poteva dire Zora siete grandi vi voglio bene ma non farmi dire forza no va bene Silvio guarda non te lo faccio dire perché ti vogliamo bene anche noi però era per far condicio no eh voglio dire insomma Silvio io l'ho fatto eh ho fatto il video di Genova ho messo le due gradinate perché la fede è fede però insomma Genova è Genova amore adesso vado a fare l'altra eh e Genova è una parte è una parte scusate ma non potevo farle prima due figli un figlio genuano l'altro sandoriano che devo fare non è che dici uno lo potevo sopprimere potevo ma amore magari annegarlo mentre gli facevo fare il bagnino ma cosa dice ma è mica normale ma sai di scappare scivolato ovviamente quello sandoriano no non l'ho detto niente io non l'ho detto nulla sei tu che vedi vedi che sei te che vai a eh sì la verità eh no non l'ho detto niente e tu che fai dici queste cose intanto vado a fare l'altra pizza sono lì qua potevi metterla già dentro ma ah prima va non hai visto come ci sono stata attenta ragazze non è che questa pizza si fa così no ma io non suono io saluto gli amici te lo dici Alba e cosa fai? niente saluto un po' di più di qua allora ciao Alba cosa ha mangiato Alba? zuppa di ceci ceci fagioli cannellini borlotti eccetera eccetera che bello buoni quelli lì eh quando io lavoravo buoni dalle mie grandissime amiche Tornella e Patrizia in un alimentare che era anche gastronomia la pina la mamma cucinava da dio e avevo imparato a fare lo zimino di ceci Fiorangela la 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 ma non mi scordo mi consigliere ma io scusa ma devo andare vedi vado a fare l'altra pizza devo vedere anche i commenti è importante vedi Fiorangela che mi dice ma non stavo parlando che sto bene con i capelli bianchi ma quelli oramai ci sono ci voleva la quarantena per farlo smettere la seguire magari quarantena sono cento cento ventena Allora siamo pronti? Alessandro Nifosi Dario Stanca Genova e Genova ha ragione Salvatore Sannino poi ciao Alessandro come stiamo? Bene siamo contenti stasera perché stiamo un po' insieme possiamo chiacchierare dirci due o tre cose quando ci fa anche il pomodoro in quella che si arriva ci lo mettiamo? Eh? Ma adesso la fai con i friarelli? Eh certo Ma no Ma sono già pronti? Allora siamo rovinati stanotte altro che la nonna vede la nonna vede anche qualche cosa oltre la nonna Questa è leggerissima friarelli e falsiccia Ciao Giovanna un bacione un bacione un bacione poi Pilar Pujalte Saluto d'Este Spagna oh Pilar e ho 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 con Tony in la radio ho 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 una diretta per tutta España con molta gente che è stata sintonizzata è stata una grande cosa perché mi piace molto quando ho ho con tutti gli amici che sono qui in Spagna che mi stanno sperando ora ho parlato anche con Michele Barsa che sta lavorando perché abbiamo che fare almeno 8 concerti in teatros allora un po' di pazienza ma io penso che in ottobre massimo novembre se puoi fare ciao Ambra un bacione poi c'è guarda la Giovanna Piccini poi c'è Deborah Campa non sa ti conviene metterti sulla freccina e vai giù tic 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 perché fai meno fatica è arrivata è vero amore? no ho fatto vedere dal cosettino Luisa Giulia Bassalini buon appetito e buonasera signore mio grazie signora mia e poi abbiamo la Lili De Monti ciao Lili ma quanti anni è che non ci vediamo mamma mia lo sai che era una cara amica quando andavamo a incidere a Milano e tante volte siamo stati anche a casa sua ci preparava il caffè passavamo le serate a chiacchierare eh Lili quanto tempo eh un bacione grande poi Graziella invece ha fatto le scaloppine con asparagi grande Graziella buone però io non le posso mangiare e ti dice se sai fare la focaccia con la cipolla no non la tui fai niente poi vediamo un po' Loli Lopez ma amore mio ma tu dici che sto guapo ma a chi lo sa c'hai ragione c'hai ragione Loli ciao Giusy ciao Giusy un bacione a te al tuo caro marito un bacione grande a tutti e due ai vostri bambini quanti ne avete adesso? 7, 8 perché ogni tanto che non vi sento c'è sempre un figlio di più ma come mai? ma cosa dici? no no vabbè però 4 mi sento 3, 4 ogni tanto nei concerti arriva con una carrozzina con un bambino dentro poi e dice Deborah che dovremmo farla tutti i sabati ma Deborah noi lo è sono due mesi eh tutti i sabati prende uno l'abbiamo saltato perché c'era Pippo che stava male che era un po' messo male Pippo ma adesso si è ripreso allora siamo ripartiti e poi dice Fiorangela che se andiamo a Savona ce lo fa lei il Zemin con i ceci brava però io ho imparato a farlo è buono eh però lo mangio volentieri ragazzi ho infornato adesso vado perché se per caso mi vede la Roberta che non sto dietro la pizza però vado perché l'ho appena messa dopo averla passata in padella a Luca Casale un abbraccio e poi Moises è chiaro che tenemos ganas di venir muy pronto in Madrid ma è grande perché le conosco perché noi frequentiamo perché noi vediamo si parliamo si parliamo muchas veces allora adesso abbiamo Ambra Monari ciao Ambra un bacione grande poi ti troviamo ancora troviamo Irene Maiolo buon appetito Sandro e Marina grazie anche a te Irene non so cosa stai mangiando ma ti auguriamo buon appetito anche a te Giusy che ci sta guardando Canio Benedetto ciao Sandro mi spiace che che non si possa sentire il profumo perché è veramente molto buona aspetta non lo senti ma è buono ma veramente ragazzi ma io sono stupita di messi Laura Lucconi un braccio un braccio un braccio un bacio perché non pensavo fosse un misto tra un abbraccio e un bacio più o meno sì volevo dire un abbraccio poi cito un bacio ragazzi cosa dice tre vai giù tre figli sempre tre sono in bacio a cippo è vero cippo tre l'ultima volta era nella carrozzina non mi sbaglio ma donna ma c'è una memoria sì però è vero è vero eh ti ricordi che erano venuti con allora Marina Aiello ciao bellissima poi abbiamo Rossio Raso Carettero eh grazie Rossio un bacio Marina Aiello buon appetito anche a te e poi Maria Cosè dice se ha tentato lo sabato certo non lo abbiamo tentato lo sabato poi Nadia Cipollina è la cippo è la cippo ciao è la cippo Pippen ci sta bene abbiamo tolto i punti oggi c'ha un culetto perfetto lenta me amore no è pippen ci lenta me scusa ragazzi tu ti sanno mi farei sì la Lili ti conoscere Marina che carina speriamo presto Lili oppure quando adesso riaprono i confini tra le regioni che forse da giugno si riparte prima volta che vieni da queste parti noi siamo qua oh io non so voi ma io non so voi ma mi sono scoperta un po' a sociale cioè no nel senso sto bene da sola mi mancano i figli gli affetti è naturale per quello che mi mandi sempre giuro no però madonna che pru in questo periodo che pru in genovese vuol dire che piacere vado dalla pizza va bene sì perché sono dicine le cose che poi ci rimangono anche male no perché allora Giovanna quando farò la prossima partita e adesso stiamo aspettando c'era la partita del cuore purtroppo è stata sospesa quest'anno con la Nazionale Cantanti stiamo organizzando però presto cose meravigliose per festeggiare 40 anni di attività di fatto io sono socio fondatore lo sapete da quando la Nazionale esiste e 100 milioni di euro dati tutti in beneficenza quindi due traguardi meravigliosi appena si può ripartiamo ripartiamo con le partite signore mio si l'avevano capita che ha detto signore mio perché eh certo e difatti io l'ho detto signora mia ma vedi che carini che siete tutti molto carini siete tutti molto carini bene 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 dai vedo che siete tanti e che siete sempre presenti io intendo di continuare a farlo ma guarda debola ma l'intenzione c'è se ovvio se magari non lavoriamo perché se si riprendesse a lavorare un pochino però si continuano queste dirette vado dalla pizza eh allora hanno fatto gli auguri anche a anche a Erika guarda qui guarda qui guarda qui occhio 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 e va il bordino come mai questo cosa c'è di tutto qua dentro dai amore assaggia questa pizza ma perché tu lo sai che io la mangio io anche quando andiamo fuori e ce l'ho fatta Margherita stasera le proviamo un po' diverse eh eh cosa vuoi fare ma poi se a reale ti piacciono la falsiccia pure insomma fai bene alla scieca che ti tira i calci fai bene alla scieca che ti tira i calci capito? lui la margherita la margherita la margherita la margherita sono per le cose semplici capito amore se no non avresti scelto me e allora scusa cosa ti presenti con questi friarielli ma basta vieni grazie no vabbè Toma un'altra meraviglia Toma Toma un'altra meraviglia ah non ve l'ho fatto vedere amici vogliene vedere metà vabbè ve ne faccio vedere metà sì aspetta io vi faccio vedere l'altra metà non so se si vede qui c'è friarielli salsiccia eccola e coltellata no no ragazzi fate che di un morbido mamma mia che meraviglia comunque 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 lascia perdere che volevi dire buone brava complimenti no ma guarda complimenti li devi fare alla Roberta perché io ho seguito poverina tra l'altro mi è stata dietro due giorni per questa pizza e ho seguito passo passo le sue indicazioni e anche questa è una ricetta sua ma va sì vedi brava Roberta cosa dice tuo marito quando gli fai ste pizze contento è contento perché così io mi associo Giuliano si chiama si chiama Giuliano e è contento per forza napoletano pure lui come la fa la pizza molto buona ciao Enrico Alpio Mass che lui salutiamo quindi Pippo Walter Ricci di Livorno grazie Rossella stiamo mangiando una pizza più buona dell'altra ma ragazzi io non pensavo Roby sono pazza te l'ho detto Roby a Pippo Madonna Roby questa con con i friarelli e la salsiccia qualcosa di devastante un dipartice è proprio devastato no no sai a chi devo farla Andrea e Sonia magari la mangia anche mia figlia vedi 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 ma una roba cortesca comunque poi dopo questa qui ci fermiamo così facciamo un po' di musica sennò poverini stanno qui per noi anche perché sennò stanotte vediamo i sorci verdi no poi facciamo l'ultima eh ah si eh si prima di andare dopo dopo che abbiamo finito facciamo ancora una piccettina cioè mentre voi praticamente andate a dormire mi sollevate dopo questo incontro lei mi va a mangiare un'altra pizza dimmi che non sei contento che sono la più buona dell'altra buon amore sono io ma non vedevo l'ora ma se mi sono piaciute mi hai anche detto buona guarda io non vedevo una pizza così sottile e morbida l'hai mai mangiata ma guarda come è sottile ma guarda come è morbida è morbidita ma guarda come senti minchia a te comunque eh oh ciao Ivana non ti avevo vista Vito ci sento l'odore è vero? mi piacerebbe ha detto che Giuliano dice che è brava e grazie e ci ringrazio a dirvi i nostri complimenti no te li meriti tu ti credimi non ho mai fatto una pizza così buona mai cioè proprio mai diciamo che non ho mai fatto la pizza no non è vero l'avevo fatta l'altra volta una volta che però insomma non mi è stato proprio questo successo ti ricordi? sì cioè non era stata questa meraviglia ho dovuto prendere la cassetta degli arnesi per mangiare la pizza c'è il martello e uno scalpello ma che roba eh per meno questa si mangia no? e che buona che è morbida non c'è tanto lievito c'è una roba pazzesca cioè ragazzi la Roberta non fa la pizzaiola no perché uno dice eh ma continuano continuano fanno pubblicità no no Roberta è una dottoressa che si sta specializzando sta facendo la magistrale insomma quindi non è una pizzaiola però mi ha dato la ricetta giusta non a caso tra Genova e Napoli c'è un gemellaggio in tutto Caterina un bacione cosa dico cosa è spuntato fuori adesso è il gemellaggio Floriana e il gemellaggio è proprio con il Genoa senti questa è con il Genoa no con l'altra squadra e va bene cosa vuol dire per dirti cioè non è che comunque Sampdoria è sempre una squadra di Genova capito ma il gemellaggio con Napoli perché tra l'altro è già difficile dire quel nome cioè queste consonanti attaccate madonna che stress tutte quelle consonanti no dai diciamo va bene no diciamo che io scherzo molto ma pensa che la maggior parte adesso tu lo sai perfettamente perché sei sempre anche insieme a me lo vedi la maggior parte dei miei amici calciatori sono tutti i Sampdoria quindi per dir mi conosco anche i Genoani però anche tanti Sampdoria anche moi qui qui anche moi madonna non ci credo ma non è che stiamo dormendo sto sognando che amore ma ma 24 ore di lievitazione non è che uno va in pasta fa la praticamente ha preso la pasta che era 24 ore che lievitava che gli ha messo il cartello prendimi non ce la faccio nel frigo adoperami continuava a dire adoperami tanto che io ho detto ma come è adoperami comunque ragazzi Pippo è stato male veramente adesso sta proprio bene Pippo quando ha sentito adoperami si è subito ringaluzzito ma se non è in grado di fare niente sto cane neanche quando gli è arrivata una cagnolina qua nel giardino gli è arrivata tutta per lui niente sbagliava sbagliava se la montava dalla testa invece di montarla come si montano i cani se la montava dalla testa ma si può voleva fare un'altra cosa ma cosa dici Pippo è un cane un cane un cane gay un cane guardone non so qua di tutto ci segue dal bagno ci guarda dalla porta del bagno alle volte sono anche in imbarazzo Pippo vai di là se non riesco a far pipì cioè è una cosa non è vero è vero è vero è vero è vero questa cosa ma ma allora stasera ci sono un paio di sorprese un paio uno non so ma ma tu dici musicale ma tu dici musicale si musicale ah musicale voi dovete sapere che le sorprese le fa anche a me poi me ne accorgo perché arriva qui dallo studio arriva qui si mette in sala e sento che suona ripassa fa allora per fortuna sento cosa combina e capisco cosa vorrà suonare poi durante la diretta perché se non fosse così non mi direbbe niente ma perché non dici cosa sto preparando giù che invece una bella sorpresa quella infatti ho detto c'è una sorpresa però ne lo so bevo io la cosa sta facendo giù tutto il giorno cosa ho fatto giù ora ve la spiego perché è lei che è una canzone che canta lui in realtà era nata come lui poi lui l'ha trasformata in lei e l'ha cantata lui che casino che era figlio di lei però lui lui che a un certo punto si è guardato in giorno intorno e ha visto che c'era lei lei ha detto prima che lei si incazzo troppo fammi andare a fare un laboretto è andato giù in studio e ha fatto diventare è lei e è lui un duetto è diventato ella ella sono loro davvero ha lavorato ha messo insieme lei e lui e quindi la possiamo cantare insieme per la gioia di Daniel che ce la sta chiedendo da una vita da una vita il lievito lo sciolgo con lo zucchero viene a una cremina davvero Stefania vedi un'altra cosa nuova pensa a te ehi Francia Francesco eccolo qui qui è tutto magna magna eh sì qui no Carlo niente acqua l'acqua arrugginisce no se puoi le tubature interne hanno bisogno di vino l'acqua arrugginisce c'è la Maria la Maria e Piero hanno detto che avrebbero guardato è la Maria è la Maria adesso abbiamo finito di mangiare lui prende la pitarra e si canticchia un po' eh ah se ne hanno voglia perché non so niente vabbè tanto tu oh ma guarda un po' chi c'è c'è anche Alessandro con Filippo ma dai e cosa vuole Filippo si indovina sarà la nostra gira ciao Filippo amore 5 minuti e la cantiamo un bacino a Filippo che sarebbe il nostro nipotino 5 minuti e la cantiamo dai su che c'è Filippo che poi Filippo deve andare a dormire ho capito il tempo di mandare giù e manda giù c'è il friarello che mi è rimasto qui Ale ho imparato a fare una pizza meravigliosa ve la farò ciao Josie Macchione eh la Josie dal Canada si eh ecco la cosa l'ho sempre detto ma questi momenti sono meravigliosi perché arrivano tutti gli amici da tutte le parti arrivano veramente tutti gli amici manca ancora qualcuno lì da dalla Costa Rica che non abbiamo ancora visto stasera però Annunziata ciao Annunziata Vittor Lai e poi chi vediamo ancora chi c'è vediamo allora speriamo che Ale sia rimasto perché l'abbiamo visto in ritardo il messaggio è lui è lei è loro basta birra però tu lo sai come il tuo amico che frega le canzoni basta vino devi dire non basta vino basta birra perché lì è il vino è lì che che lui e lei e lei senti cosa dice Fiorangela siete troppo forti ma come si fa senza di voi ma amore ma cosa dici senza di noi ci sarebbe qualcun altro è vero è meglio che ci siamo noi scusa sì ma lei dice come si farebbe senza di voi è meglio che ci siamo noi ma lì non è presumptuoso no ci sarebbe qualcun altro ma no ma lascia di stare questa gente non sai nemmeno cosa fanno ma chi dove vanno ma chi ma di chi stai parlando ma cosa dice ma di chi stai parlando ma cosa ne so ma chi so ma quando ma ragazzi ma si vabbè mmm sì dica sì prendi la chitarra aspetta che finisco l'ultimo pezzettino il vento dalla vaia passa sulla nostra casa la burrasca già scompita al mare ma dedicata a Filippo che paura come mai che ha smesso di suonare dedicata a questa scusate concedetemelo al mio nipotino ciao Filippo dai Pippo canta con noi lui la canta dalla vaia passa sulla nostra casa la burrasca già scompita al mare ma sto naufragando anch'io non so dimenticare di non mamma più le regole del giorno per rispettare che poco che di notte io non mi addormento e sto con un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri tu sarà la nostalgia sarà che l'estate vola via sarà ma sono qua un uomo che vive per metà sarà la nostalgia sarà che ti penso ancora via sarà quel che sarà ma tu che ne sai di che sarà sarà tutta per Filippo bravo ehi Diego mamma mia Diego un bacione lasciami sto cadendo giù abbiamo fatto un progresso amore amore mio amore mio di colpe noia e tu lasciami sentiami lasciami lasciami di colpe morire perché senza te questa vita che vita è ma io non so che tu ti aiuterai e ti starai più vicino più di un bambino Con tutta la forza che hai Allora amami e ci proverò Amami e ci riuscirò Amami e ce la farò Amami, ho bisogno di tempo e di nascere ancora Amami e ci riuscirò Vedi che fa tutto quello che vuole Eccolo lo facciamo Mi piace questa Ma molto, mi gusta molto Vediamo dopo Ma come, vedi? Gli ho detto mi piace Mi piace, mi piace molto Ma no, perché non ho visto bene gli accordi No, 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 dai Dai, scuola dopo Ciao Diego, un abbraccio Non mi domando dove sei Se io fossi come te Allora io saprei che soffi e stai pensando ancora a lui Tu, tu sei così lunatica Sei vicina e poi lontana su una nuvola Tu, tu sei così lunatica Tu, tu sei l'amore Sì, la pioggia e poi la pioggia quando si vola Scusa ma mi era rimasto l'ultimo passo Ah, bravo Bene, cosa dicono i nostri amici? Antonella Priolo dice il germino colpito Così accontentiamo Antonella e accontentiamo anche i nostri amici No? Vale Comì del frutto proibito Dejando il vestito Colcato della nostra consenza Cuervo a fuori durante un minuto Mi mente llorando al consenso Io con lei non vado più Io con lei non vado più Nella mente, negli occhi, nel cuore Ci sei tu, l'infinito amore Ci sei tu, ci sei tu Adesso non sono tu Lo sento, Lucio La vita è sassi Non l'hai inventato io Se la voglia ti guarda negli occhi e ti prende per mano Succede che poi non ti accorgi nemmeno Di essere andato un po' troppo lontano Scusa tanto Se la vita è così Ci sono cascato anch'io Scusa tanto Scusa tanto Scusa tanto Scusa tanto Io mi hai venuto per mano Io mi hai venuto per mano Io mi hai venuto per il corpo E mi hai comportato come un ser humano Lo sento molto La vita è sassi Non l'hai inventato io Vabbè, un mix dai Sì, hai fatto Magari avvisami perché c'è Non è che ti si può Ma come viene Allo stesso Ah, vabbè Devi fare quello che vuole Tanto Era scritto lì, eh Non l'ho visto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Io un prigionero me siento E un prigionero me muero Siguendo a tu lado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Io un prigionero me siento Oh, oh, oh E un prigionero me muero Siguendo a tu lado Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Chi è? Un bello di questo Ah, no, sei tu quella Dicevo, ma chi è che diceva quella Che avevi scritto una roba Che ci sento Io? Sì Vieni a ridere perché ti ricordi Matteo Tedeschi Ciao, Matteo E poi Brava, vai Daniel ci sta questa E con un ruolo di questione Se il tempo Si fermasse per me Lasciando Tutto il bello che c'è Fermarlo Tra i segni degli occhi miei Ti guardo E mi risveglio con te Ritrovo La stessa forza che me E fino a ieri Giocavi con i sogni tuoi E sei così grande Così all'improvviso Che vorrei Farti un sorriso E poi Conservarlo per te E il giorno Lo crescerà Ma no Anche sulle mie Devi cambiare Se noi vuole Vincare le ritrovo Deve cambiare anche sulle mie Mi devi avvisare Facciamo ritornello di nuovo E sei così grande Così all'improvviso Che vorrei Farti un sorriso E poi Conservarlo per te Se il giorno Lo cercherai Questa la dedico Anche alla mia bambina Volevo Farti fare un ritornello Di più E dimmelo Ma tu senti No Che io non fai E io sento Si sento Io sento Secondo lui Io sento Grazie Sandri Bene Bene Ma puoi fare Quello che vuoi Bene Ma non puoi fare Quello che vuoi Non funziona così Amore ma tu mi devi seguire Ciao Fazio Carlo Bella Ciao Capito Lori mi manchi Lori mi manchi Lori mi manchi Lori mi manchi Felicia Quagliano E poi Sabrina Carbone Che ci sta guardando Anche lei sta seguendo La televisione Madonna la Sabri Felicia La Brigitte Brigitte Surace Cosa dice Mi curco Che alle 5 Gallo al canto Questo è mio zio Alle 5 Gallo al canto Ah di curchi Ah di curchi Mauri Maurizio Che bella sorpresa Ti mando un bacione Mauri Che bella sorpresa Ciao Roberto Vabbè facciamo un po' Di canzoni Per divertirci Non è che dici Sai facciamo un po' Di roba Ma Robi Fatevi fare questa Per i miei amici Allora Vai amor Seguo Quanta promesas Daniel Io sono più simpatico E non sappiamo Osscura Con las ganas Quantas ganas De scavare Dentro del tuo alma Ciao Giorgio Ciao Giorgio Un abbraccio Allora abbiamo aggiunto Anche l'Albania Faccio uscire Da Tirana Da Tirana Guarda quanti amici Sparsi veramente Per il mondo Perché Non è che noi Ci fermiamo All'Europa Per il mondo Per il mondo Per il mondo Quindi Giorgio Da Tirana Grande Grazie Oh La tua voce Mi incanta Stefania Grazie 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 molte E Questa l'abbiamo fatta Ciao Pina Un bacione Tua cugina Tua sorella La sabri Mamma mia Che tempi sabri Mamma santa Vabbè Sabrina Carbone Abbiamo una canzone Se no Poi ce la chiede Poi dice Porcu Ma chi è? Con chi ce l'hai? Mi piace anche a Filippo No stavo riflettendo Sul fatto che Io devo leggere lì Nel pensiero Aspettate che mi collego Vai Com'era Ah non lo so Parti tu Dai parti tu Con Portami a ballare Hai visto Avevo capito Portami a ballare Si Con Portami a ballare Portami a ballare No dalla strofa Mettavo bene Un pezzo di strofa Dai Ah la strofa? Sì Ah Ah no la strofa Amica la mia Eh Io le mie me le ricordo Dalla strofa Sì Eh Dalla strofa Allora Dalla strofa Terza strofa Tale quale alla seconda Enrico Tavore Dei re Come fa? Non è il vinto Dalla baia Sarà la nostalgia Eh perché mi viene Sarà la nostalgia Eh Maria Ragazzi Ma come mai? Eppure c'è Ma sai perché? Perché quando suoniamo Suonano i musicisti I musicisti Si partono E tu ci vai dietro E tu hai visto la sua donna Eh? No suona Passa una stagione Passa il tempo Passa anche l'amore Perché avevi detto Ma non serve fare patica a te Samanta eh Per nasconderti Hai parlato Samanta Non si può cambiare Un'abitudine Gli amici e le persone Dove abiti La dolce nostalgia Di un bacio Ruba le fredde E via Non si può Larsare il pianto Su una fotografia Forse è una Cugia Ma non è colpa mia Facci un ritmo Portami a ballare Fammi divertire Senza far domande Versami davvero Questa notte amore Notte senza fine Voglio ricordarla Quando spero male Portami a ballare Fammi divertire Dimmi che mi ami Canta una canzone E poi camminiamo Mano nella mano Voglio far l'amore Questa notte Insieme a te Io e te Finale può Come viene Come viene Vabbè ma va bene Vedi che se inizi a suonare La prendo Gaviota blanca Gaviota blanca In libertà Il mar che viene Il mar che va Daniel Amore Il mar è sarà Tan cerca di me voglia stia a te volare volare da l'alto che abbia la luce entrare nel silenzio darà a escuchare l'eco di un sospiro volare volare da l'alto hacia la luce bajare l'evo impiccato rimontare il cuero innamorato sotto questo grande cielo cielo blu quanti sogni sono volati di lassù quanti treni sono passati in ferrovia quanta gente è andata via sotto questo grande cielo e anche il mio quante volte ho chiesto piano dove è Dio perché sotto questo cielo non è facile per noi va bene e poi sta mangiando i bordini che ha lasciato Sandro morbidi morbidissimi ma morbidi chiamavano perché sotto questo cielo e non ti ricordavo non è facile per noi ma mi prendi il giro e no è l'R7 ma stavano andando avanti basta basta così ah quanta pazienza che ci vuole allora noi aspettiamo aspettiamo un po' di notizie vostre ma se non è male a 35 vabbè no è tardi è amore qui passa oh ma c'è Pippo che sta mangiando tutti i bordini a me è piaciuta una città facciamo dalla seconda parte navi e vascelli che soccano il mare di Cienofà vanno nel mondo e raccontano il cuore di Cienofà compri tesori ma senza donarli mai piazza e castelli del sole di Cienofà nelle tue pietre c'è tutta la storia degli uomini sguardi che scusano un orizzonte un equilone ancorato alle nuve e su nel cielo una cieno vola su Cienofà terra di Cienofà terra di santi e di ladri di autori e caldanti di onde e di marinare piccoli troppo stretti contrabandano quei miei cuori in quel tramonto dorato c'è un sogno rubato quel sogno non sei solo tu Cienofà lo sai non ti lascio più e c'è un giorno per partire per cercare di là ma c'è un giorno per tornare perché sei la mia città e c'è un giorno per partire per cercare di là ma c'è un giorno per tornare perché sei Cienofà la mia Genova allora qualcuno chiede anche ieri ma ieri non mi ha ieri non mi ha passato ieri è passato com'era? ieri avevo la tua età e erai dolcissima inandata all'anima oggi non c'è più non la ricordo ieri avevo detto è una storia facile ma oggi non c'è più allora facciamo questo esperimento in diretta con voi facciamo? ah e qui speriamo? no è un esperimento perché chi conosce le canzoni di Sandro conosce lei e conosce anche lui anzi lui non la conosce perché non l'ho mai fatta però adesso facciamo questo esperimento di incrocio tra lei e lui e vediamo cosa viene fuori ma è un esperimento è studiato oggi pomeriggio ma proprio al volo mentre impasciavo la pizza vai ah vai devo andare io partiamo bene lui no lui 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 che mi sveglia al mattino lo fa sottovoce e mi dice buongiorno al caffè lui entra in fondo ai miei occhi e mi dice ti amo io non voglio che te lui quello che aspettavo e che monta di piedi è arrivato per stare con me lui mi ha rubato per sempre corpo anima e mente e mi perdo di lui è lui che sento come zucchero e sale che sa soffortare il mio stabile umore che ci fa litigare e poi fare l'amore scoppiare nel cuore la voglia di credere che è proprio che sento come zucchero e sale che sa perdonare il mio stupido errore che ci fa litigare puoi fare l'amore lasciando aspettare la mondo che gira anche senza di noi lei lei che mi aspetta per ore prepara le cose le più buone che piacciono a me lei che mi tiene per mano e prigiona i minuti mentre il tempo va via e lei che sento come zucchero e sale che sa soffortare il mio stabile amore che ci fa litigare puoi fare l'amore il mondo che gira anche senza di noi che gira nanana nanana dira nanana il mio stabile amore che ci fa litigare puoi fare l'amore lasciando aspettare il mondo che gira anche senza di noi e il sorriso più dolce si nasconde l'amore io non posso sbagliare la donna no quella è vecchia se quello che cerco fa sempre sei te l'ho detto che era un esperimento amici dai su allora amici e già va bene che è venuta così si va bene la cosa ho fatta bene dov'è la eh si perché dovevi solo suonare cosa vuoi fare questo siamo giunti ma siamo arrivati amore sono i 43 siamo giunti siamo giunti siamo giunti siamo giunti amici 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 che fare però prima di salutarci dobbiamo sempre dire le due parole assolutamente infatti prima di salutarci dico io si va bene allora prima di salutarci anche se le cose stanno sicuramente migliorando dappertutto va bene vogliamo essere positive e continuare ad esserlo si mandiamo sempre il nostro abbraccio a tutte le persone che ancora adesso stanno soffrendo ancora adesso sono magari a casa e hanno perso un caro per colpa di questo meraviglioso virus e mandiamo però questa volta anche un abbraccio a tutti quelli che sono in difficoltà economica perché i primi giorni, i primi mesi, le prime settimane e si viveva un po' dello stipendio del mese precedente e adesso i soldi iniziano a mancare quindi un abbraccio a chi è in difficoltà e speriamo che il governo faccia qualcosa di concreto per aiutare tutti questo è il mio pensiero vi abbraccio io avrei finito col mio pensiero allora faccio il mio il mio esattamente come il tuo perfettamente uguale perché è una simbiosi la nostra quindi va bene anche così però io invece voglio salutarvi tutti voglio ringraziarvi di essere stati stasera anche stasera con noi vi abbracciamo veramente tutti e ci vediamo sabato perché sabato saremo sicuramente ancora qui vediamo cosa si inventa se magari sabato ci mangiamo qualche cosa magari vediamo ma se adesso vado a fare l'ultima pizza è un po' più quadratino è il primo comunque ci salutiamo con il nostro inno di chiusura positivo mi sono svegliato mi sono uscito mi sono sentito e sono uscito solo un suono per la strada ho camminato a lungo senza meta finché ho sentito cantare cantare in un bar finché ho sentito cantare in un bar canzoni e fumo ed allegria io ti ringrazio conosciuta la mia non so nemmeno che è stato a darmi un muore e il primo è qua ma so che sento più caldo il mio cuore so che sento più caldo il mio cuore felicità ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già tristezza va una canzone il tuo posto prenderà abbiamo bevuto ma va andiamo avanti e poi ballato è mai possibile che ti abbia già ascoltato e pure ieri fuori ieri di dolore che non ci senta più caldo il mio cuore ok non ci senta più caldo il mio cuore sei felicità felicità ti ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già dai amici che noi stiamo uscendo felicità una canzone il tuo posto prenderà felicità e quant'è e ho perso ieri ed oggi ti ritrovo già tristezza va una canzone il tuo posto prenderà una canzone il tuo posto prenderà un'ora soltanto della compagnia di questa canzone tutta sempre distanza vediamo una canzone di mito ci mettiamo qui da bere senza mangiare il tuo posto stai e cantiamo per un'ora una canzone ci stai? no il tuo posto va bene prenderà una canzone che il tuo posto prenderà ciao amici belli buonanotte un bacino a tutti ci vediamo presto va bene ciao è giunto il momento vado a chiudere bacio non ci riesco non si vuole chiudere ciao non si vuole chiudere no non si vuole chiudere